Il mercato del Foggia in entrata come in uscita si infiamma e il club brosonero pare ad un passo dall'ufficializzare il centrocampista dell'Entella Tascone con Garattoni a fare il percorso inverso e pronto a stabilirsi in Liguria. In mancanza di intoppi la trattativa sarà definita a stretto giro. Il Foggia ha trovato nel frattempo l'intesa con il Lecco per la cessione a titolo definitivo di Frigerio e di Dalmasso e di Beretta invece in prestito fino a giugno. Un pacchetto completo quello infiocchettato dalla società rossonera che si libera di tre caselle di ingaggi di chi come il portiere e l'attaccante ormai erano ai margini del progetto tecnico. Ieri intanto è tornato in città il patron del club Nicola Canonico che accompagnato dal segretario generale Pippo Severo ha raggiunto palazzo di città per incontrare la sindaca Maria Ida Episcopo, un incontro a cui ha preso parte anche l'assessore con delega allo sport di Molfetta. Chiacchierata cordiale e proficua è stato ribadito dalle parti con l'amministrazione comunale che ha poi fatto il punto. Il confronto è stato sollecitato dal comune per discutere alcune clausole negoziali sulla gestione dello zaccheria, situazione ereditata dalla gestione commissariale ma che ora necessita di risposte concrete, è stato sottolineato in una nota. La società rossonera ha invece rimarcato la necessità di rivedere la convenzione per renderla più congrua ad una gestione economica sostenibile. Non si è invece entrati nel merito dell'attuale situazione societaria. Intanto la squadra prepara la sfida interna di sabato con l'Avellino, gara in cui il Foggia ritroverà finalmente il suo pubblico dopo due gare di fila nel deserto di uno zaccheria desolatamente vuoto.